Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché tutti i suoi figli vivono nella tebertà dell'Agello e dievono testimonianza a Cristo con la santità di vita. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per tutti i devoti del Santo, per i bisognosi, sofferenzi, ammalati, perché dicevano da Dio il conforto e il soglievo invocato. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per tutte le opere di carità di apostolato, sofferenzi, nel nome di Sant'Antonio, perché raggiungono le loro finalità benetiche e manifestino al mondo i valori dell'amore cristiano. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per noi che partecipiamo a questa eugelespia, perché l'esempio di Sant'Antonio, c'est'oro, ha una vera vita cristiana. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. E insieme all'operto del Pagano e del Vino portiamo su questo altare la nostra offerta personale. Affidiamo le nostre famiglie, i nostri ammalati, i nostri giovani, le nostre scelte di vita. Possa la Vergine Maria accogliere i nostri cuori e presentarli al trono di Dio. Noi glielo chiediamo, per Cristo nostro Sio. Amén. 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 Allик. Amén. Amén. E abbiamo, e abbiamo il vivo vivere, e abbiamo, cittadoli, un cuore sincero. Come la carità, e bene e sincero, pace Dio, come la carità, perdonare tutto, supportare. Come la carità, e bene e sincero, pace Dio, come la carità, perdonare tutto, supportare. Come la carità, e bene e sincero, pace Dio, come la carità, perdonare tutto, pace Dio, come la carità, perdonare tutto, pace Dio, come la carità, perdonare tutto. Come la carità, perdono. Grazie.